I paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un Armageddon nucleare. Questa volta tocca all'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, agitare la minaccia atomica. Il diplomatico ha risposto così alle dichiarazioni di alcuni alti funzionari americani, secondo i quali le munizioni all'uranio impoverito che l'Inghilterra è pronta ad inviare in Ucraina non presenterebbero rischi elevati. Dichiarazioni irresponsabili, ha commentato l'ambasciatore russo, ad agitare la comunità internazionale, però, c'è anche il mandato di arresto per crimini di guerra emesso dalla Corte Penale dell'AIA nei confronti di Vladimir Putin. L'ex presidente russo, Medvedev, che nei giorni scorsi aveva detto che un missile russo avrebbe potuto anche colpire la sede della Corte dell'AIA, ha dichiarato oggi che l'arresto di Vladimir Putin da parte di un paese straniero equivalrebbe a una dichiarazione di guerra alla Russia. E la Russia è un paese che ha l'arma atomica, ha sottolineato minacciosamente Medvedev. Sul campo, intanto, si continua a combattere. Lungo il fronte occidentale starebbe rallentando l'offensiva russa a Bakhmut, mentre sarebbe sempre più forte la pressione nella vicina Avdivka, dove nella notte sono morte due persone per un attacco missilistico. Due civili, come civili, erano le otto vittime di ieri nel dormitorio di una scuola nei pressi di Kiev, e le due persone uccise da un razzo sparato contro questo condominio a Zaporizia.